L'edonesa man di Ayu Tami è uno dei pochi romani indonesiani che è stato tradotto in italiano. Io sono molto legato all'Indonesia e chiaramente cerco sempre di procurarmi questo genere di libri perché danno una visione di quello che accade nella realtà di questo paese. E in effetti sono stato molto sorpreso dal fatto che questo romanzo era molto innovativo, anzi addirittura di rottura non solo rispetto alla realtà indonesiana, però rispetto alla letteratura in generale e quindi sono stato molto contento di aver avuto l'opportunità di intervistare Ayu attraverso la collaborazione e la professoressa Soriente che si è legata in Indonesia per porgerle le nostre domande. Te, tu! We are very glad that you accepted to do this interview also on the occasion of the launching of the Italian book at this nice gallery in La Dama Dono. And there are a number of questions we would like you to answer in order to give the audience the opportunity to know from your own point of view some of the important issues about your book. This launching to be done, being done in the month of March, do you think Saman as a book written by a woman and actually exploring the position of four different women in the book can be considered to be a feminist novel? Well, I myself consider it as a feminist novel since I consider myself a feminist, even though it might not sound too feminist if we consider it in a first generation feminist. Conventional novels tend to have a hero approach and usually a feminist, understand it in a feminist way, but heroes should be a woman who is strong and who is a fighter, like a lot of novels in Indonesia has a woman hero too, like a lot of novels in Indonesia has a woman hero too, like a lot of novels in Indonesia has a woman hero too, like who is a woman hero too, like a lot of heroes, who has a woman hero too, like a lot of her career in Indonesia has a woman hero too. che si ritrova dappertutto nella letteratura, quello che sottolinea è che il romanzo, per essere effettivamente femminile o femminista nella sua visione, non deve avere un eroe, non deve avere un personaggio principale che sia esso donna o uomo. E solo a la fine del libro comprende tutto il suo libro, e si vedono tutte le connessioni di le caratteristiche. Do you think this might be a reason why your book might have had such success both in Indonesia and also abroad, considering that actually it's the only book, and one of the very few work if we exclude the whole work of a comedian and a tour that have been translated in foreign languages? Well, it's success in Indonesia, I think, cannot be separated from the political context at that time. The book was published just ten days before Sephartha step down. So the whole situation was kind of euphoria wanting for a change. So there was in Indonesia, an animal or a spirit for liberation, for change. And I think the book really speaks about the whole situation at that time. And Indonesia, or Indonesian literature, seeing from abroad, is never accepted as literature by itself. It is in one package, literature and Indonesian. So probably because the interest in Indonesia at that time was also a big, because Indonesia has just underwent a change, so there is an interest on it. Do you think instead that sex and sexuality is one of the main triggers for the success of your local? For the commercial success, maybe, yeah. Since in Indonesia and maybe also in the world, at that time Indonesian women were still perceived as passive and docile and didn't talk a lot about their sexuality. So there might be a commercial reason, commercial point for its commercial success, I think the sexual topic works or helps. The Donne di San Man ha avuto un grande success, sia in patria che all'estero. Questo è dovuto al fatto che è stato pubblicato in un momento particolare della vita indoneziana, cioè dieci giorni prima della caduta di Suarto. e c'era un grandissimo interesse per i cambiamenti e questo ha fatto sì che questo libro interpretasse bene questa esigenza di cambiamento. Inoltre, diciamo, dall'estero non si vede la letteratura indonesiana in se stessa, ma la letteratura come parte dell'Indonesia. In quel momento chiaramente c'era un grandissimo interesse per l'Indonesia e per i rivolgimenti politici che stavano avvenendo nell'Indonesia. Un'altra caratteristica che ha procurato successo al libro è il fatto che si parasse esplicitamente di desideri sessuali, di relazioni e di cose che, diciamo, fino a quel momento erano state in qualche maniera taciute dalla letteratura indonesiana. Ma possiamo dire che ci sono alcuni elementi tradizionali in questo libro, come tutte queste visione che vediamo in molte delle situazioni e delle scene, soprattutto in questi anni, in questi anni, che ci sono molto più importanti, che questo tipo di credito in delle ghioste e delle creature che si vengono a parte dell'indonesia, Can you just elaborate a bit more on that? One of my main themes is to find something else or the other side or something that rationality cannot really cover. Modernity tend to think human beings as a rational person. And big parts of human decisions that were not made or still until now are not made by their rational decisions. So the whole book, this book and all the other books of mine deals a lot with it. I think rationalism is not adequate to explain human beings. And in my book it is carried out in a different way. One way is this spiritual or ghost stories and the other channel is sexuality. And another channel is using a lot with religious metaphors. I think there are always three themes or three characters or three topics that come out in my book. Which is sexuality, religion or God and irrationality. Using the ghost stories is part of my effort to explore the irrational part of human beings. But experiencing the life or being in any nation in which you still see a lot of tradition. And where people have not really gone through off-clayroom and rationalism or this modern philosophy. So these kind of stories like ghosts or the belief on the spiritual things are still a strong part of the Indonesian life. Nel libro sono molto presenti dei fantasmi, delle storie con fantasmi, con situazioni che non appaiono razionali. Io personalmente so che questa è una gran parte della cultura indonesiana che fondamentalmente è animista. Nel libro diciamo questa cosa è molto presente. Ayu in qualche maniera ci dice che questo dipende anche da un suo interesse per superare il razionalismo della modernità che non le sembra condividere tutto ma che questi aspetti sono comunque molto presenti nel suo paese. Can you just elaborate a bit about this topic and whether in your following novels this theme, this spiritual, this irrationality theme is still present? I see it's still present until now and even though I don't, even though I'm not making it by real decision, I mean by a conscious decision. Only later I realized that these topics always come out and usually also I realized that my main enemy or the main antagonist on my books are the military. And it's, 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 it happens without I'm really realizing it. But another thing that is, that I would like also to say because I also realize it only later, that I usually, I tend, I tend to, uh, to associate all this, uh, language of, uh, language of the irrational, uh, language of the non-rational, uh, to the female characters. Yeah. Uh, that's, that's also why some feminists, uh, didn't like my book because, uh, because, uh, they think that my book is not feminist enough because it doesn't have a really strong heroic female character. But I think this all heroic female character is another trap of patriarchal, uh, paradigm. So what I need to, what I want to do is to, uh, to, to use the other, to, to find another language, another paradigm to, uh, to understand human being. L'uso dei fantasmi, dell'irrazionale, in effetti ad Ayu riesce spontaneo. Un'altra riflessione che faceva, egli riesce spontaneo di considerare i militari come i cattivi delle sue storie. e in effetti in Saman ci sono dei militari cattivissimi. Un'altra cosa che, eh, 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 riesce spontaneo è il fatto di considerare l'irrazionale, eh, eh, come appartenente soprattutto al carattere femminile. eh, 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 eh atmosfera of a country where the majority of people are Muslim the biblical quotations are quite striking quite strong I think people need to know what is your position about that because from one point of view they seem to be a bit you know they're just forcing a bit the issue but I'm pretty sure there's something more beyond beyond that can you just say something about the presence of all these religious biblical quotations well I think there are two reasons one reason is a very private thing because I think my first language is shaped by the biblical, by the bible so it's just natural for me I didn't I was not born into a family who is very intellectuals or keep a lot of a big library in our house so the bible is one of the main influence for me so it is not that I want to 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 go from the bible but it's just because it is my first language so it's 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 a very private matter and the second is um later I realized that religion poses big problems nations are religious in one way in one or another way so there are and late and and we also see an increasing uh violence with under the name of religion so it uh there is a need to criticize the religion but as a Christian and minority I think it's not um it's 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 not very easy to to criticize it directly so I want to share my being Christian I want to share my critic my critics to Christianity and hopefully my fellow nations will can also do it with their religion is there any symbolical meaning in meaning metaphorical symbolic meaning metaphorical reason to be the use of all these critical traditions um I mean sometimes it looks like I sort of saw some kind of irony in the use of it and I don't know whether it was only my conception or it's indeed something uh beyond that I mean I would like to actually ask you about this issue because for a Catholic country like Italy it's something that you really get interested about um um the biblical parts that I used in someone is basically the Genesis story of Adam and Eve and I think that's that is the story shared by the monotheistic the Jewish the Christian and the Muslim that shape a lot of their misogyny or gender bias so I think I really want to I I I look at the part this Genesis part uh also with irony because 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 this story actually um it is interpreted such a way so far in the history that women become subordinate to men and um and but if we read it actually if we read it more um carefully it will give a different interpretation too um but I use it in my book slightly like irony because I make it very sensual but at the same time also a bit sadomasochist and blend it with religious feeling because I think uh it is religion also that uh that uh that develop the uh the idea of the beauty of submission so uh I play with it because usually religious uh people they don't want to look at their text as a sensual text but uh um I think a lot of part of from the bible are very sensual and it's it's just and we have to admit that it's just this monotheist uh communities they 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 seem to uh to to want to separate sensuality from anything religious which I think we can make it in a in a another way the book is a book is a book that that it's that it's a book that in a book it's a book native because it's a book it's a book it's it's a book musulmano the world and tuttavia Ayu considera the fact that there is a violence to religion and that there is the need to criticise this thing but living part of a minority in a musulmano is not possible to this state of and prefer esprimere qualcosa della religiosità da offrire ai propri condizionali come spunto di riflessione inoltre dice ancora che la parte della Bibbia che è più presente nel suo romanzo è la Genesi in cui c'era un ci sono forti sentimenti di misoginia cioè parla praticamente della sottomissione della donna all'uomo e lei pensa che sia possibile anche un altro tipo di lettura più sensuale della della Bibbia e gioca un poco su questo sul rappresentare diciamo questi elementi e anche in qualche modo nel leggerli diversamente stile che possiamo leggere del libro è non molto molto troppo 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 che questo è il quinto di una conversazione prima della comunicazione di questa stile è una principale e è abbastanza di stile che troviamo dei fondamentali dell'indonesia come Sutan Taklir o Pramudia Lantatur questo non significa che non riconosciamo che la tua stile e la tua lingua è molto riche molto ricercate la ricerca è molto alla fine non è molto trattato ma il stile è molto particolare e qualcosa che è unico per l'indonesia di quali pensi di questo e quali la reazione dei 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 altri dottμέ Bello una struttura può essere migliale facendo perché questo da tutto lavoro per stato storie è come una ripoversa nella ricerca di Hý È uno stile rotto fatto di messaggi via email in cui non c'è una struttura definita del racconto e in questo è molto innovativo rispetto anche a quello che è la tradizione indonesiana. E ritorna come un fatto centrale della ricerca di Ayun e lei dice che pur non avendo la struttura di un romanzo tradizionale tuttavia può essere goduto un pezzo alla volta perché comunque nel suo complesso dà comunque il senso del dramma. Ritorna come un punto centrale il non voler trovare una storia eroica in cui c'è un personaggio principale che assume la funzione di un eroe e che in qualche modo narra la sua vicenza, di cui è narrata la vicenda, ma come un fatto corale un intreccio tra storie che compongono il libro. Grazie per la visione di Ayutami e grazie per il vostra importanza. e mi piacerebbe piacere quando mi piaceremo in personale. Mi piacerebbe anche la mia gratitudine molto a Antonean, a la pubblicità e anche a la Galleria per dare una grande intenzione. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.